ciao a tutti anime bentornati qui sul mio canale su quinta dimensione letture per questo nuovo appuntamento con i sette raggi e i cinque raggi occulti do il benvenuto a tutti a chi mi segue normalmente che è già affezionato a questo canale e anche ai nuovi che mi ascoltano per la prima volta quindi vi rinnovo l'invito se avete piacere a iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte allora proseguiamo con il nostro raggio che è il terzo raggio rosa il giorno è il martedì allora i sette raggi sono come già avrete sentito come molti già conosceranno sicuramente sono le sette virtù divine i sette raggi le sette fiamme sacre appunto divine di dio e ogni raggio ha un colore ha delle determinate caratteristiche che ci possono aiutare durante la nostra vita durante il nostro percorso la nostra crescita spirituale molto importante proprio un percorso giornaliero di crescita spirituale non mi stancherò mai di ricordarlo non basta una volta ogni tanto c'è un percorso da seguire specialmente in questo periodo che ci troviamo proprio fortemente e beneficamente se vogliamo anche bombardati di energie proprio di quinta dimensione molto alte purificatrici dissolutrici della matrice della terza dimensione così egoica così pesante la terra ha già effettuato la sua ascensione e ora è richiesto a noi terrestri appunto di fare altrettanto allora ricordo a tutti le note tonali sono una parte integrante di questo video ed è in una playlist a parte troverete proprio le note tonali del martedì terzo raggio rosa su questo canale vi metto anche il link in descrizione per aiutarvi a trovarla subito le note tonali sono appunto quelle cose in sintonia quelle note quelli quegli strumenti proprio vibrazionali sotto forma di musica e che in questo particolare giorno con questo particolare raggio di questo particolare colore è proprio adatto quindi vi invito ad ascoltarle comunque magari anche in sottofondo durante il giorno o anche in sottofondo quando fate i decreti ricordo appunto i decreti li trovate per intero sul mio canale perché qui in descrizione non c'entrano una parte ne metto magari una prima parte poi la seguite sul sito web www.quintadimensioneletture.it metterò ovviamente un raggio a settimana dovete questa cosa bisogna proprio capirla che bisogna andare piano con questi lavori non c'è fretta e bisogna comunque proprio fare un tutt'uno tu e il raggio anche negli altri giorni quindi studiatevi bene anche se ascoltate il video in un giorno che non c'è quel raggio lì ascoltatevi un altro raggio perché sempre di più entrerà in voi deve diventare una cosa normale per poter manifestare una maggiore energia per poter aiutare noi terrestri ad ascendere più velocemente ad innalzare questa vibrazione dobbiamo essere sempre in sintonia non solo quando uno ha tempo o quando è allora questa pratica di farlo comunque anche se quel giorno non è quel raggio però già ascoltare le parole del raggio decretare leggere pensare a quel colore già vi mette su quella lunghezza d'onda giusta va bene perché i sette raggi sono validi sempre e poi anche i cinque raggi occulti che faremo alla fine ma questi primi più conosciuti che sono usciti diciamo prima le informazioni di questi sette raggi funzionano tutti i giorni sempre senza sosta quindi ogni giorno c'è questo arcobaleno comunque di colori su di noi poi ogni giorno ovviamente è specifico ma sempre vanno bene quindi anche se vi trovate che ne so il lunedì ad ascoltare il giorno del raggio invece del giovedì non fa niente leggetelo ascoltatelo è sempre pura energia vibrazione e cosa buona cosa bella cosa di luce che potete fare le informazioni che vi darò oggi vengono dalla editrice italica dalla collezione metafisica di cui una è questa le meditazioni quotidiane vi faccio vedere i libri questo nuova uscita sette raggi occulti sette raggi e cinque raggi occulti sempre di edizione metafisica poi vi metto come in ogni video vi faccio vedere anche gli altri è allora la metafisica la possiamo vedere molto e capire molto bene da questi due assolutamente stupendi volumi di conny mendes è il volume 1 e il volume 2 qui dice proprio bene sono pochissimi quelli che combinano queste leggi sulle leggi del pensiero con la verità spirituale è proprio questo accostamento che costituisce un rinnovamento per il lettore e non specializzato quindi va benissimo proprio per chi anche non ne sa niente non ha mai sentito niente di questa cosa è la collezione metafisica appunto di conny mendes ti aiuterà a prendere le regini della tua vita ti insegnerà a gestire il tuo immenso potere interiore guidandolo attraverso canali costruttivi mentre la salute e la prosperità aumenteranno visibilmente ve li consiglio molto perché c'entrano molto con i raggi parla anche di san germen maestri ascesi eccetera e anche te lo 4 le sette fiamme sacre che fa parte proprio della serie di volumi dal dall'1 al 4 che ha scritto la nostra carissima aureria louis jones e anche qui si parla di fiamme sacre colori e giorni ci sono anche delle valide invocazioni preghiere che potete fare per aumentare appunto l'energia di quel raggio allora adesso ve l'ho detto insomma le note tonali ve l'ho dette i decreti li trovate sul sito andiamo avanti quindi procediamo facciamo sempre un po di respiro quindi ci acquetiamo cosa assolutamente necessaria e vi vado intanto a leggere le qualità poi facciamo i decreti in fila quindi terzo raggio rosa allora la nostra bella terza sfera dalla terza sfera rosa attorno al nostro sole vi dico subito quali sono le virtù l'amore divino puro e incondizionato la coesione l'educazione l'empatia legge dell'economia universale precauzione cultura adorazione azione divina intelligenza attiva intelligenza emozionale l'ampiezza di vedute su ogni questione astratta la sincerità di proposito il tatto e la sensibilità e la generosità il colore ovviamente è rosa nelle sue diverse gambe va bene più chiaro un pochino più scuro il rosa nelle sue gambe diverse il chakra corrispondente è il chakra del cuore quindi chakra numero 4 il giorno della settimana in cui è più attivo è il martedì il direttore o il chohan chiamato di questo raggio è la maestra ascesa lady rowena che ha sostituito paolo il veneziano prima il chohan di questo raggio era il maestro asceso paolo il veneziano gli elohim sono orione e angelica gli aromi di questo giorno e di questo raggio sono il cipresso eucalipto geranio pino e ilang ilang le pietre sono la rodocrosite e il quarzo rosa abbiamo qua diversi quarsi rosa il nostro re di venus anche che è un cristallo andara di quinta dimensione e poi abbiamo la nota musicale appunto vi ricordo le note tonali da ascoltare che è la nota sol va bene queste sono un po le caratteristiche le virtù prima di iniziare a dire chi sono gli esseri di oggi di questo raggio sappiate che potete connettervi meglio con il raggio proprio con queste qualità che vi ho detto poc'anzi va bene anche il colore indossare addosso con dei vestiti di questo colore portare le pietre addosso anche tipo un braccialettino così di quarzo rosa proprio in questo giorno va bene quindi sintonizzarvi con gli aromi potete fare anche laura soma dedicata ai colori del rosa per chi la usa insomma tutte queste cose potete proprio essere in sintonia ancora di più allora partiamo Lady Rowena è proprio il Chohan del terzo raggio che è proprio il completamente il completamento divino dell'amato potente victory le attività di Lady Rowena sono la liberazione l'amore fraterno e il perfetto amore divino poi abbiamo ovviamente le sue note tonali che le trovate nella playlist lei è un essere della fratellanza di venere venuta ad aiutare l'umanità della terra ad evolvere Lady Rowena presiede un'attività di luce del raggio dell'amore divino che possiamo proprio invocare per risolvere le disarmonie di Tigi il mantello di rose rosa di puro amore divino va bene è una grandissima maestra scesa veramente veramente potente andiamo avanti con gli Elohim tutte le informazioni le trovate nel libro che vi ho detto è perché non posso leggere un libro intero quindi poi le spiegazioni più approfondite di ogni essere ci sono è nel libro gli Elohim Orione e Angelica sono gli Elohim del terzo raggio rosa e le loro attività sono l'amore divino la coesione l'adorazione e la gratitudine verso ogni forma di vita lavorano incessantemente per portare la pace sulla terra attraverso l'amore divino gli arcangeli Camuel e Carità che sono proprio gli arcangeli del terzo raggio rosa del puro amore divino e dell'adorazione a Dio e alla sua bontà questi arcangeli sviluppano nella coscienza dell'umanità un vero senso di gratitudine e adorazione alla fonte di tutta la vita e a stimolare nell'umanità la fiamma divina che giace velata in ogni cuore poi abbiamo Brahma e Sarasvath lord Brahma è il primo aspetto della trimurti o trinità induista rappresenta l'aspetto manifestatore o l'aspetto creativo della divinità Brahma è il signore che regge il primo universo o universo manifestatore Sarasvath è la consorte divina madre divina della saggezza universale venerata sin dall'epoca vedica come dea della conoscenza delle arti della letteratura della musica della pittura e della poesia e poi abbiamo proprio lui Paolo il veneziano che è il consigliere dei sette chohan e signore del regno della natura le sue attività sono l'amore e l'adorazione a Dio il conforto e la pace allora per esempio il maestro Paolo il veneziano ad Atlantide fu un grande artista nonché il ministro delle arti e della cultura queste sono un po' le sue incarnazioni si incarnò anche nell'antico Perù nell'impero inca eccetera eccetera anche in Egitto lavorò insieme al maestro e il moria nelle costruzioni delle piramidi e in Italia fu proprio l'artista Paolo il veneziano poi abbiamo Santo Aeulus che è un grandissimo essere cosmico fu il precedente maha chohan della terra e attualmente occupa la carica di spirito santo appunto maha chohan del sistema solare questo è potente il suo completamento divino ma anche gli altri e l'amata signora pallade atena che abbiamo anche in altri raggi poi abbiamo la dea della primavera Amarillis che è un grande essere che lavora nel raggio rosa del divino amore e sostiene l'aspetto della bellezza e della rinascita regola i cicli della natura delle primavere e il flusso delle acque venne sulla terra con le sue legioni e per 900 anni creò la primavera ogni anno per decorare di meravigliosa bellezza la terra per l'arrivo delle prime anime che stavano incarnando sul pianeta poi c'è Maria Maddalena che è una maestra del terzo raggio rosa dell'amore divino dove le sue qualità principali sono l'amore accoglienza bontà speranza e compassione ma anche guarigione e anche l'aromaterapia ci ispira proprio Maria Maddalena alla guarigione attraverso l'amore il perdono e le erbe quindi tutti questi esseri oggi collegatevi anche pensatevi no vi metto anche proprio le immagini per avere una connessione diversa sono più attivi proprio oggi allora alcuni la confondono attenzione con Lady Nada che insomma è di un altro raggio ma non è così perché in nessun discorso dato proprio dal ponte delle libertà e dell'attività io sono che sono quelli proprio che hanno dato le anche canalizzazioni informazioni principali già all'inizio del 1900 proprio sull'attività dei maestri ascesi dicono che non è lo stesso essere ok quindi insomma perché poi ce ne sono tanti che parlano in giro canalizzano tutti eccetera eccetera attenzione alle informazioni noi prendiamo sempre le fonti proprio quelle principali anche se vogliamo più antiche non perché l'evoluzione non va bene anzi però per quanto bisogna stare attenti a quello che si dice quindi comunque si cerca di prendere sempre l'informazione principale poi abbiamo l'amato David Liot o anche Lloyd David Lloyd che è un membro di un'antica famiglia londinese nella sua ultima incarnazione visse in India dove suo padre era un rappresentante della corona britannica allora qui dice anche che invocò la divina presenza io sono il maestro san germen affinché lo aiutassero poi insomma c'è tutta una bella storia qui che vi dovete leggere dice proprio che quando beve un elisir il suo corpo ringiovanì e si elevò ascendendo la divina presenza io sono proprio grazie ai maestri insomma ci sono tanti stati tanti diversi che hanno avuto contatti fisici proprio con i maestri ascesi poi abbiamo la maestra venusiana Lady Delurai che è giunta in aiuto sulla terra in questo momento tanto speciale e lavora appunto nel raggio del puro amore divino poi abbiamo l'angelo guardiano della scuola il ponte della libertà spirituale che è la cherubina Love Lee lei si manifesta donando la sua magnifica radazione di amore saggezza e buona volontà dove non vi metto le foto vuol dire che non abbiamo notizia va bene si mettono solo quelle di cui si hanno notizia andiamo e procediamo adesso con il decretare alcuni li trovate in descrizione altri insomma tutta la lista completa sono proprio nel sito web allora acquietiamoci terzo raggio rosa martedì amore divino e adorazione la velocità ve la fate voi potete farli anche senza di me io ve li sto esponendo a chi piace e chi riesce le fa insieme a me oppure lo fate comunque da soli mio amato essere cristico io sono in me ti amo e ti adoro o grande e potente fiamma dentro il mio cuore invio il mio continuo amore adorazione a te al grande dio dell'universo e ai suoi messaggeri invio il mio amore alla vita in ogni luogo benedico tutta la vita che contatterò in questo giorno con pensieri sentimenti parole ed azioni oggi non voglio criticare giudicare e tanto meno condannare farò in modo che non escano da me espressioni in cui non sia presente la benedizione di dio io sono sigillato nella fiamma rosa dell'amore divino io sono una presenza confortatrice per tutti gli esseri viventi in ogni luogo amato paolo il veneziano ti amo ti adoro e ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per me e per tutta l'umanità insegnami ad essere una persona gentile dotata dei tuoi doni di tolleranza diplomazia comprensione ed abilità affinché io possa intendermi bene con i miei compagni umani amata maestra lady rowena ti amo e ti benedico ti sono riconoscente per tutto ciò che significhi per me e per tutta l'umanità in ogni luogo aiutami a mantenere la mia attenzione centrata sull'essere cristico che si trova ancorato all'interno del mio cuore affinché io possa manifestare la sua grande perfezione in tutto ciò che faccio penso dico o sento in ogni mia attività personale e nei miei compiti amato camoel ti amo ti benedico e ti ringrazio per la tua benedetta assistenza offerta a me e a tutta l'umanità accendi e mantieni la tua fiamma rosa dell'adorazione in tutte le cellule del mio corpo e fa che la sua perfezione si espanda fin tanto che ne sia ripieno tutto il mio essere e il mondo in cui vivo accendi la tua fiamma dell'adorazione nei miei sentimenti affinché espandano l'amore divino in me per contagiare tutti coloro che contatterò mantieni mi avvolto in un pilastro di fiamma rosa di amore adorazione benessere e perfezione nel nome della presenza di dio che io sono vi invoco amati paolo lady rowena camoel orione e tutti i grandi esseri di luce e potere al servizio del terzo raggio insieme alla fiamma rosa dell'amore divino affinché accendiate affinché accendiate affinché accendiate la fiamma d'amore e adorazione risplendente come mille soli in ogni parte del mio essere del mio mondo nei miei cari e in ogni persona luogo e condizione nel regno elementale negli uccelli i quadrupedi e ogni cosa vivente sulla nostra terra qui ed ora mantenete accesa la fiamma rosa dell'amore di dio fino a quando tutta la vita imprigionata sarà liberata vi ringraziamo nel respiro che prendiamo gli altri decreti nel più sacro nome di dio io sono amata lady rowena avvolgimi nel tuo mantello di rose ed eleva i miei corpi inferiori alla più alta frequenza dell'amore divino amata lady rowena invia i tuoi angeli dell'amore divino ad armonizzare questa situazione con la quale devo entrare in contatto grazie padre madre nel più sacro nome di dio io sono amati elohim morione e angelica avvolgetemi nella radiazione del vostro immenso amore affinché possa sciogliere tutti i legami carmici che ancora mi uniscono all'imperfezione grazie padre madre nel più sacro nome di dio io sono amato arcangelo camoel aiutami a sviluppare l'adorazione in ogni aspetto della vita grazie padre madre amata signora carità insuffla nel mio cuore la fiamma della gratitudine aiutandomi ogni giorno a rendere grazie all'universo per il dono della vita grazie padre madre nel nome dell'amata presenza di dio io sono ti invochiamo amata maria maddalena affinché irradi su di noi e su tutta l'umanità il tuo amore incondizionato e che questo amore si espanda dal centro cuore di luce di ognuno di noi a tutto il piano pianeta luce terra molto bene sto riguardando e chiudiamo proprio con le invocazioni proprio ai direttori di ogni raggio quindi oggi lo faremo per il terzo raggio a lei di rowena io sono io sono io sono la resurrezione e la vita dell'amore e adorazione in azione dell'amata maestra scesa lady rowena dentro il mio essere e nel mio L mal dell' alguien in azione sia la risurrezione e la vita dell' amore e adorazione in azione dell'amata maestra scesa Lady Rowena dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la resurrezione e la vita dell'amore e adorazione in azione dell'amata maestra scesa lady rowena dentro il mio essere e nel mio mondo oggi ci prendiamo un momento per ringraziare e ricordatevi tutti i giorni di pensare comunque ai raggi anche se quel giorno non è quel raggio ma volgete sempre il pensiero anche se non è quel giorno perché sono sempre proprio attivi allora io vi ringrazio vi ricordo le note tonali molto importanti per una connessione maggiore proprio con tutti gli esseri che proprio in questo giorno e sotto questo raggio operano proprio ancora più fortemente degli altri giorni quindi mi raccomando andate a vedere la playlist delle note tonali per quanto riguarda i decreti sono tutti nel sito web www.quintadimensioneletture.it dove c'è anche appunto sul mio canale la playlist completa man mano che le aggiungo che le aggiungerò uno a settimana ovviamente quindi man mano che le aggiungo le aggiungo anche alla playlist così poi alla fine quando saranno completati perlomeno i primi sette prima di aggiungere gli altri cinque avete già tutti tutti e sette poi per chi ce l'ha comunque libre le cose li fa li fa da soli questo è per spiegare molto a chi magari ancora non ne sa tanto va bene io vi ringrazio molto di essere stati qui con me e vi aspetto presto per altri video qui su quinta dimensione letture un ciao e grazie a tutti